La fase attuativa, cioè appena completata la via che dovrebbe concludersi a breve, dentro questo mese, c'è un passaggio in consiglio comunale, sono tutte cose burocratiche che la gente capisce con difficoltà, perché essendo un progetto di opera pubblica ci sono delle piazze, delle funzioni che vanno sull'arenile, quindi una cosa di assoluta, diciamo, dettaglio tra l'altro indivisibile da tutti i fili della fruibilità delle spiagge eccetera, e quindi c'è bisogno di un ennesimo passaggio, il terzo, in consiglio comunale per approvare il progetto invariante al PRG. Dopodiché il progetto esecutivo dovrebbe essere dato, spero, in poco tempo e si va in acqua, quindi entro fine anno sarà difficile secondo me che riusciamo ad avviare i lavori, ma sicuramente entro primavera San Girolamo avvierà i lavori, ed è un altro progetto di piano strategico, così come la riqualificazione delle case di San Girolamo, la rigenerazione urbana è uno di quegli atti già avviati, è proprio la riqualificazione delle case popolari da Cipini, San Girolamo, anche quello è stato aggiudicato, è stato fatto insomma un percorso molto lungo e complesso, ma siamo anche lì alla fase della campierizzazione. Quindi sono tutti progetti che sono in linea con questa logica della rigenerazione urbana, cioè per esempio in quel caso c'è l'abbattimento di case popolari piuttosto malfunzionanti, solete eccetera eccetera, è la ricostruzione delle case dell'edilizia residenziale pubblica per coloro che ci abitano, più tutta una serie di opere pubbliche infrastrutturali, perfino la Fogna che era assente, una serie di collegamenti viari che mancavano per consentire poi la petonalizzazione del lungomare e quindi bisogna chiaramente rinforzare la mobilità a monte e tutte queste opere pubbliche sono finanziate con l'investimento privato attraverso questa sorta di accordo di programma pubblico privato concordato tra Regione, ACQ e Comune. Il Novus Campus, ma noi abbiamo sempre parlato del campus universitario dove si integravano le attività del CNR e dell'università e diciamo integrando le funzioni attuali spostando alcune, del discorso come dire foresterie, noi non abbiamo mai considerato nel piano strategico né ho condizioni di quello che è successo e sta per succedere, ma anche i SAC per esempio la Mabalice è un progetto che è stato posto a finanziamento e deriva dal piano strategico ma insomma ce ne sono tantissimi, c'è il park and train di Lamasinati, il parco Lamasinati che anche lì è stato parzialmente in gran parte finanziato e dovrebbe perdere, cioè ci sono tutta una serie di progettualità che derivano dal piano strategico, sia con quei pochi finanziamenti pubblici che la Regione ha messo a disposizione, il piano dei tempi per esempio anche lì era un progetto di piano strategico che abbiamo ammesso, su cui abbiamo candidato il finanziamento e molti li stiamo attivando con iniziative diverse, con il coinvolgimento dei privati, molte riguardano la mobilità, quindi non so, la DOP delle FAL, la stazione Executive della sud-est, cioè ci sono tanti progetti che sono finanziati con altri tipi di finanziamenti, non fondi FES, la Bari Nord per esempio sta facendo grossi investimenti nella zona nord, quindi il piano strategico è in fase comunque di attuazione, non esiste e sono d'accordo ma non è colpa nostra che non riusciamo a portare avanti la partecipazione strutturata perché non abbiamo le risorse per farle, le abbiamo chieste ripetutamente alla regione che però preferisce utilizzarle diversamente. Per concludere, perché quelle di quei tempi sono tantissimi e diciamo possono essere poi affrontati singolarmente, l'approvazione del DPP è l'inizio di un percorso che porta alla redazione delle strutture. Tutti coloro che sono interessati, spero che con questi due anni di comunicazione, più o meno sbagliato, carente eccetera, però sicuramente l'informazione si è allargata, sono invitati poi a intervenire quando affronteremo temi specifici.